Il campo sportivo politico di qualità mattine ad Agropoli tornerà presto a Nuova Vita. Il comune di Agropoli è stato infatti destinatario di un finanziamento di 836.000 euro nell'ambito del fondo Sport e Periferie predisposto da Alconi. Il progetto, presentato a candidatura nei mesi scorsi da parte dell'ufficio tecnico comunale, prevede interventi di adeguamento e rigenerazione. Una volta completati questi interventi, l'impianto sportivo potrà venire utilizzato per incontri ufficiali fino alla prima categoria. A parlarci nei nostri microfoni sono il primo cittadino d'Amo Coppola. Con questo finanziamento invece lo riportiamo a Nuova Vita perché verrà fatta l'erba sintetica, verranno rimesse a posto le strutture intorno al campo, i servizi intorno al campo, quindi tornerà a questo puntato che la struttura poi sarà nuovamente all'avanguardia, sicuramente sarà nuovamente attenzionato dai cittadini e verrà certamente utilizzato. Quel centro di aggregazione sportiva pensato per le mattine darà nuova luce e sicuramente sarà un centro, un punto di incontro importante sia per i cittadini delle mattine ma per tutta la popolazione. Quindi siamo felici e quindi noi ogni volta che c'è una possibilità di ricevere dei fondi per implementare i servizi in città, noi lo facciamo.